Rifiuti, alberi caduti sulle recinzioni e rimasti sospesi senza alcun intervento, mucchi di legna secca, catastati in diversi punti anche vicino ad abitazioni, come documentato dalle nostre immagini, staccionate, bacheche danneggiate, buche pericolose per i passanti, piante all'octone che stanno prendendo il sopravvento sulla vegetazione propria della pineta. Basta fare una passeggiata nelle aree aperte al pubblico in quanto non danneggiate dall'incendio per toccare con mano lo stato di abbandono della pineta danunziana e l'assenza di una gestione adeguata ad un'area protetta. Critiche insomma precise, circostanziate da parte della stazione ornitologica abruzzese nei confronti del comune di Pescara. Per Augusto De Sanctis, imprescindibile la manutenzione, non solo ordinaria. Sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria. Togliere un albero caduto evitando che la legna rimanga a terra per tempo, per molto tempo e che quindi sia secca è un'attività di manutenzione ordinaria. Poi ci sono attività anche di diradamento se gli alberi sono troppo stretti e così via che magari c'è bisogno di un'attività straordinaria. Però il comune di Pescara è un comune grande, il pericolo anche quello è molto alto perché siamo in un contesto urbano. La manutenzione è necessaria, si può e si deve fare e non sono i vincoli della riserva a impedirli, ma è solo la volontà degli enti, in particolare del comune di Pescara. Dunque l'associazione contesta l'assunto che siano state le regole della riserva a peggiorare i danni dell'incendio, spiegando che oggi anche l'area non toccata dalle fiamme come quella del comparto 2 adiacente il teatro d'annunzio non è sicura. Pronta una diffida nei confronti del comune di Pescara. Noi facciamo una diffida oggi stesso al comune affinché adempia alle prescrizioni del piano di assetto naturalistico e del piano antincendio. I tecnici hanno scritto che l'incendio poteva partire con grande probabilità in Apineta dalle 10 alle 17. Ci hanno proprio preso. E cioè era un piano che diceva tante cose, fare avvistamento, prevenzione, formazione di volontari, fare interventi anche sulla riserva di manutenzione per appunto togliere legna secca, cose di questo genere e anche comprare materiale per l'antincendio per distribuirlo ai volontari e così via. È stato fatto? Da quello che è accaduto ci pare di no, però queste saranno anche le indagini ad accertarlo.